ciao questo è un nuovo video che volevo che voglio parlare di un volume che ho appena riletto di randog anche se ce l'avevo già da qualche anno che una di quelle storie nei primi 150 di randog che io l'ho ripresa tramite a questi book che hanno che hanno provato a fare tramite la gazzetta dello sport che in teoria doveva nella serie regolare doveva essere il numero 81 che è uscito nel giugno del 93 ma io l'ho preso in questa edizione ma è fatta la versione book cartonato che questa qua che voglio parlare ma è di questo volume che si chiama johnny freak che una delle marei una marei delle storie ancora di quando c'è ancora ancora scala e sclaviche che una di quelle trame e magari ancora una marei che può rimanere belle di the and dog dopo in questo marei book marei sono belli perché ho visto che sono sono tutti sono marei anche i volumi sono anche a colori che in questo in questo volume la copertina ea di angelo quella la copertina quella dell'originale di angelo angelo sano quella originale questa qua di questo volume adesso morrei qua dentro in questo volume non c'è scritto però sono i disegni sono di questo andrea venturi che nella copertina della serie normale a di age di angelo stano che come storia parla di questo proprio di questo johnny freak che è che stava proprio in questa cantina in questa marei cantina che stava abitava marei in questa cantina con le pareti marei tutte marei tutte marei disegnate che come si dice che questo johnny freak che gli mancavano come si dice gli mancavano tipo le gambe ed è anche sordo muto e il e il come si dice a questo più o meno a questo ragazzo qua johnny freak che abitava marei nella nella cantina ea fine il compito morai in questo volume di compito morai di dylan ea di capire magari chi è stato morai a ridurlo marei in quello stato che dopo essendo mai anche vecchi magari anche come volumi c'era anche come si dice anche mai un bel po mare anche da leggere che il vignette ce n'erano erano mai anche anche tante che era il solito morai volume che a lungo mai cento centrodici pagine più o meno che come voluto come volume marei johnny freak e uno mai dei migliori che che c'è marei che ci possono essere marei di dylan che l'ho voluta tipo andarmela marei a rileggere magari anche ultimamente perché magari ricordarmi in france cammi mai tipo da una parte magari la un po amore e la memoria di cosa marei parlava questo volume fa di johnny freak che come disegni di questo avventura e ho visto che all'epoca fino al 150 di dylan sia come trame e come disegni non c'è amare niente morai da come si dice da non si potremmo dare una critica marei negativo certe tavole marecci marei anche belle dopo questi volumi infatti a book sono mai anche a colori con fatto marei gli albi della serie magari regolare che mi sono recupero che mio tipo quando erano usciti con la gazzetta mio tipo andato a recuperare questa serie di cartonati sempre di dylan che erano uscite tra le erano magari in totale hanno sui mi sembra 19 no sui 25 più o meno che sono usciti tra il 2010 2017 2019 più o meno questi volumi qua cartonati fatti in questa maniera che riprendevano mai vecchie belle vecchie storie di dylan e niente che l'ho voluto ti può andare che certe volte magari capita che certe volte mi vado magari a rileggere queste vecchie magari trame di dylan che meritano mai anche sempre queste questi trame quelle vecchie di dylan che doveva questo volume qua e all 81 81 come nella serie nella serie regolare che doveva essere uscito al giugno delle no del 93 questo volume quasi johnny freak da parte questi volumi questi qua cartonati dalla gazzetta costavano tipo 4 euro 4 euro e 90 ciascuno tranne i primi che costavano mi sembra 4 e 70 mi sembra che verso la fine erano tipo aumentati però volevo tipo parlare un attimo di questo qua di dedicargli ma è un video a johnny freak che è una di quelle trame ma è che di dylan e morai meritano e niente che dopo capitato che questi volumi come ho detto prima ma che sono anche mai anche a colori e niente che morai doveva per capire dire nel compito di dylan ea quello di me e a quello di capire ma lei chi aveva mare con il contatto in quella mania morai a questo johnny freak senza senza gambe e se anche sordomuto e niente che la trama di questo volume qua è questa che il compito di dylan è quello di capire chi l'aveva ridotto in quella in quella maniera che ho visto che questi mai volumi erano anche belli perché la maggior parte erano anche tutti tutti marea e tutti a colori e niente magari quello che potevo mai dire di cui su questo morai volumi di johnny freak che marello già l'ho già detto che ci sono anche magari degli appunti marei c'è dentro anche marei una gli appunti dall'oro e di roberto di roberto orecchioni che ci sono delle cose marei scritte marei scritte marei da roberto orecchioni e altre altre cose anche marei a bozze e sketch marei dei disegni in ogni volume che è uscito è uscito di questa serie qua tramite tramitar è uscito si imprendi di quella tramite la gazzetta questa serie qua e niente che come come storia questo va di johnny free che è una di quelle che meritavano di di dylan e niente perché quello che potevo mai dire su questo volume marello già l'ho già detto e niente marei ci vediamo magari sicuramente marei più avanti con i miei soliti magari video sui manga o magari su gli altri volumi magari della bonelli sempre quelli da magari da edicola e ci vediamo sicuramente più avanti ma per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao